Abbiamo riniziato da una settimana i lavori e in questo momento stanno scavando, quindi stiamo andando avanti, siamo dentro i tempi e i lavori dovrebbero finire entro due mesi, massimo due mesi e mezzo. Ecco, c'è anche un altro luogo che è collegato alla vasca di Colmata che è via dello Squero dove lì c'è stato uno stop. Sì, dunque quelli sono dei lavori che sta facendo l'ASET, è stata presentata tutta la documentazione per la bonifica bella e stiamo seguendo appunto anche questi lavori qui che entro fine mese dovrebbero iniziare. Lo scopo è quello di non vedere più una piscina in piazzale a Mendola insomma. Sì, questo è un problema che ci portiamo avanti da tantissimi anni e quindi speriamo che non ci siano ingenti piogge durante i lavori, però alla fine di questo intervento non dovremo più avere la piscina sotto il sottopasso e quindi diamo una bella risposta che aspettavamo da tantissimo tempo. Grazie. Grazie.